partiamo parlando ancora di aumenti e del prezzo dei vini che sale inevitabilmente ma parliamo anche di promozioni come quella dei ristoranti milanesi d'alta fascia ecco anche la ristorazione aziendale che si innova e si rinnova poi alcuni dati sul caffè e concludiamo parlando di pizza ma è una pizza per supereroi ben trovati amici su ore caccia nell'italia oppure benvenuti se siete per la prima volta nel nostro canale ecco le 5 notizie che abbiamo scelto per voi oggi prego regia aumento in vista nel mondo del vino sia nel canale moderno che in quello oreca si stimano prezzi in salita dal 10 al 30 per cento a causa di un ricaro medio delle stili delle aziende calcolato tra l'8 e il 12 per cento conseguenza dovute come più volte denunciato su questo canale dagli aumenti eccezionali dei costi di materie e servizi i dati emergono da un'indagine the wine net rete tra le sette delle più importanti cooperative italiane sulla situazione attuale dei prezzi e le previsioni per il 2022 secondo l'analisi dell'osservatorio lo scenario che si profila per oreca e gdo è diversificato mentre nel canale oreca infatti gli operatori hanno accettato queste variazioni la grande distribuzione organizzata oppone maggiori resistenze ma il settore della ristorazione cerca di neutralizzare gli aumenti attraverso le attività promozionali come quella lanciata da 19 ristoranti milanesi associati in in gruppo di cui buona parte stellati che propongono fino al 30 aprile menu fissi a prezzi decisamente più accessibili del solito obiettivo degli chef di in gruppo è quello di valorizzare il moderno ristorante per avvicinare anche la clientela più sfuggente magari intimorita dalle delizie dell'alta cucina prezzo del menu fisso tutto compreso euro 75 a testa unica eccezione il ristorante da vittorio dove occorrono 180 euro è il prezzo delle stelle di vittorio ne ha tre e se la ristorazione stellata cerca nuovi clienti innova e si rinnova anche la ristorazione aziendale segnaliamo un nuovo modello per la pausa pranzo aziendale che è diventata alla carte che offre la possibilità di prenotare con semplicità un pasto tramite un'applicazione sul proprio telefono in qualsiasi orario della giornata questa iniziativa più vicino a un concetto di ristorazione invece che di una mensa tradizionale si chiama brio ed è il nuovo servizio delivery per le imprese lanciato da sodexo è di fatto il nuovo ristorante aziendale del futuro con menu flessibili adattabili alla dieta personale che permette anche di ottimizzare il tutto con meno spreche parliamo di caffè e di una ricerca realizzata da you gov sugli abitudini di consumo degli europei fra i dati che la ricerca pubblica registriamo che sono gli italiani consumatori più frequenti con il 45 per cento che beve almeno una volta al giorno il caffè fuori casa seguita da spagnoli 40 per cento francesi 25 per cento e tedeschi 19 per cento per gli italiani e gli spagnoli e il bar il luogo preferito per bere il caffè fuori casa 82 per 180 per cento rispettivamente mentre i francesi e tedeschi lo bevono più spesso al lavoro 56 e 52 per cento o al ristorante la fantasia nel mondo della pizza nel mondo del marketing non si esaurisce mai è nato the batman calzoni idea della warner bros per pubblicizzare il film the batman questa pizza è servita con la crazy sauce e a forma di pipistrello ha il cornicione ripieno di salsa all'aglio e al centro è farcita di formaggio e salame ma se la mangi diventi un supereroe non sappiamo ma è probabile che l'uomo pipistrello combatterà i suoi nemici invitandoli a cena e dando loro questa pizza alquanto indigesta non avranno scampo batman calzoni non fa prigionieri bene ecco il pensiero del nostro mahmad ali o cassius clay suo primo nome questa è proprio la frase che serve per puntare in alto vincere le sfide più difficili ali diceva se la mia mente può immaginarlo e il mio cuore può sognarlo allora posso raggiungerlo ecco la grandezza di alì non era solo di pensare dire ma era quella di riuscire a realizzare davvero quello che pensava e con tutte le sue forze voleva un esempio da seguire a 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